Bentornato con Rado Augas, buonasera, naturalmente lo conosciamo per tutto quello che ha fatto il Rai, per la trasmissione della Sette, per la vita si impara editore in Audi e parleremo anche del suo libro che non è precisamente un'autobiografia ma quasi, però non si può che partire da Genova. Leggiamo i giornali, sentiamo le intercettazioni, poi sappiamo che bisogna aspettare il terzo grado di giudizio, ma che idea si fa lei? Ma guardi, io prescindo perché ho letto tutto ma nessuno di noi sa tutta la verità, prescindo dai singoli e dai singoli fatti, colgo il segnale, colgo il segnale, ma guardi ho portato un foglietto perché lo colgo a Genova ma lo colgo anche in questa notizietta, grande così, pubblicata dal Corriere della Sera qualche giorno fa. Il titolo dice, truffa alla UE da 5 milioni di pascoli fantasma. Per il conseguimento di erogazioni pubbliche sono coinvolte 44 persone e 31 società in tutta Italia tra ascolti. Abruzzo, Puglia, Lazio, Liguria, Trentino, Alto Adige, Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Campania. Capisce che vuol dire questo? Tutti. Capisce che è un sistema, è un sistema. Come possiamo sorprenderci di Genova? Credo che dovunque si vada a mettere il dito verrebbe fuori qualche cosa di simile. Trent'anni fa noi ci illudemmo nel 92-94 che la tangentopoli col cataclisma, anche politico, la fine dei partiti, avrebbe posto fine appunto a quello. Non è vero. E ricominciarlo tutto non proprio come prima ma quasi. Dottora, per io le voglio chiedere una cosa. Quanto rispetto a quei tempi è cambiata la nostra classe dirigente e quanto siamo cambiati noi? Partiamo dalla classe dirigente e da queste inchieste alle intercettazioni emerge anche un ritratto della classe dirigente. Abbiamo i weekend, le spa pagate a Monte Carlo, i matrimoni della figlia pagati, con lui che dice sai mi mancano 13 mila euro ma te li do io, poi la sentiremo. Regali a amiche sponsorizzate dai presunti corruttori. Allora, questi sono gli uomini più importanti della Liguria. Di loro che immagine traspare? Posso esprimermi con un gesto? Gentarella, come direbbe la parodia di De Luca. Si ricorda? La parodia di De Luca è fatta la crozza. Come no? E Gentarella in che senso? Persona gettiro. Persone che si accontentano. Quanto sarà costato? 30 mila euro, 20 mila, 10 mila euro. Insomma, un uomo in quella situazione deve far sposare la figlia. Ribetti i soldi da parte, chiedi un prestito alla banca, ti ingegni per averli in maniera. La vogliamo sentire questa di cui stiamo parlando, la intercettazione? Poi lì sinceramente è un casino. Oggi parto perché domani c'è il matrimonio di Giulia. Devi vedere quanto mi è costato. Devo fare un bonifico a saldo per il matrimonio e ho già fatto 70 mila euro di spese. E io questi soldi non li ho più. 13 mila, 200 euro. 13 mila? Paolo io te lo faccio, ma 13 mila? Devi fare un bonifico di 13 mila e 200 e tu in banca non ce l'hai? Aldo, ho speso tutto. Paolo io stasera vieni a casa mia, te li do i soldi, non è un problema. C'è un'altra soluzione Floris. Non spendi quella cifra per il matrimonio di tua figlia. Spendere meno anche a me. Spendere meno anche a me anche quello. Santo cielo. Però io le pongo un'altra questione. Secondo alcuni, da questi flash sulla vita politica di alto livello della Liguria, non emergono reati. Emerge forse un cinismo? Un grande pragmatismo? Come a dire, beh d'altronde la politica è questa. Cioè, è chiaro che un imprenditore se ti fa un versamento, una volta lo poteva fare perché credeva nel soldo dell'avvenire o nella tenuta dell'Occidente, ma adesso perché lo fa? Lo fa per avere un qualcosa di ritorno. Una volta che lo fa in termini regolari, che male c'è? Cioè, il male che la perdita della dignità si è perduto, per molti politici, non tutti per carità, ma la buona parte, il senso della propria dignità. Il fatto che il servizio allo Stato deve essere svolto, come detto del resto, la Costituzione, mi pare 54 l'articolo, con disciplina e onore. Ma si guadagna poco, si rischia di andare sempre in galera, si rischia di finire in un angolo della politica per un non nulla. Perché dovrebbe fare l'agente di valore? È quello, il problema è quello lì. Difatti l'agente di valore veda una volta, io me lo ricordo, una volta l'arruolamento nella politica. Era dei giovani migliori, era un compito giudicato luminoso andare ad aiutare il tal onorevole, il tal ministro. Oggi qual è il giovane di valore che va a portare la borsa a questo o a quello? Va a fare un management a Londra? Va fuori, diventa ingegnere e di necessità il livello della classe politica si abbassa ad un livello che è troppo basso per resistere alle spinte che ogni politico, in ogni paese, in ogni epoca ha le opportunità che si creano. Allora però, prego, prego. Nell'antica, le Verrine, cioè nell'antica Roma, dove i direttori, i governatori di una provincia rubavano, Cicerone faceva le orazioni, perché anche quelli avevano a disposizione, Ponzio Pilato, il famoso, in Medio Oriente, diciamo, rubava. La politica ti mette nelle condizioni di rubare, neanche solo in Italia, dappertutto. Dov'è il freno che devi avere? E devi avere il freno nella consapevolezza del ruolo che svolge. La tua cultura, la tua formazione. Difficile fermarli con le leggi, no? Perché ne prendi uno, ne prendi due, ma intanto, come diceva dal suo articolo, però i politici non cascano dal cielo, no? Li scegliamo noi, li votiamo noi e in qualche misura qualcuno dice sono molto simili a noi, guardi cosa le faccio vedere, il cartello 12. Allora una volta, con Tangentopoli, quando esplose, bastava un avviso di garanzia, ed era pure molto probabilmente una cosa brutta, sbagliata, però quell'uomo scompariva dalla politica, doveva passare magari la vita a difendersi, anche dall'opinione pubblica, non è stato un bel periodo. Adesso però è un po' il contrario. Toti è domiciliare per corruzione, resta presidente della Liguria, addirittura oggi Giorgia Meloni ha detto beh, ha detto che spiegherà, aspettiamo che spieghi, anche se lui ha dato non disponibilità a parlare al giudice, quindi hai voglia? Aspettare. Sgardi, è stato chiesto l'invio a giudizio, reati fiscali, indagato, insomma delle cose di cui si è parlato, perché poi lui è una persona molto popolare, quindi si è dimesso dal ruolo di governo, ma lui stesso ha detto poi mi hanno dato tre opportunità, ho scelto e vengo candidato all'Europea. Fidanza è un europarlamentare di Fratelli Italia, ha patteggiato un anno e quattro mesi per corruzione, è stato candidato di nuovo all'Europea. continuo, Montaruli, condannata per peculato, un anno e sei mesi, dimessa al governo e diventata vicepresidente della Commissione Vigilanza Rai, Del Mastro, inviata a giudizio, non si sa chi ha sparato, lui dice Pozzolo, Pozzolo dice no, è stato il capo scorta di Del Mastro, resta sottosegretario, la Santa Anchei ne abbiamo parlato più volte, siamo noi che li tolleriamo, oppure che li vediamo come inevitabili, in fondo ora faccio una citazione sgradevole, ma si ricorda un grande socialista, diceva la politica alla fine è sangue merda. Adesso il sangue è poco, è rimasto solo un'altra materia. Ecco poi chiederemo a Lucia Annunziata cosa la spinge a candidarsi, visto che il mondo dove si va a lanciare è questo, ma mi dica allora che idea ha? No, il decadimento viene dal fatto che accuse, le racconto un episodio, un mio amico tanti anni fa stava per diventare presidente della Rai, venne messo sotto, ha indagato e naturalmente la carica, dopo tre anni venne sciolta l'indagine, abbandonata, perché non c'era niente, intanto però la presidenza della Rai era passata e non è più arrivata. Voglio dire, il comportamento di un uomo, anche quando è specchiatissimo, rischia sempre di inciampare. Questi altro che inciampo, questi sono andati a capofitto dentro una cosa. Vittorio Sgarbi, che io stimo molto come critico storico dell'arte, e qualche volta gli ho anche detto, ma perché fai quelle buffonate? Ma il limite di affare, ormai tutti li conoscono. Lui ha una spinta come dataista per fare quella roba là, ma gli altri, l'onorevole Montaruni, che ha una condanna in via definitiva, come fa a sgridare gli altri dopo quello che ha combinato? La ministra Sant'Anthè, ne abbiamo parlato, come si fa? Dice, ma noi dobbiamo aspettare a norma della Costituzione una sentenza definitiva. Certo, per i reati sicuramente, ma per i sospetti. Per lo spessore. Allora, c'è un argomento che lega quello che abbiamo trattato a quello che sarà l'argomento del giorno. Lei sa che oggi la senatrice Segre è stata molto dura nel liquidare il premierato, e la versione breve vi faccio vedere perché poi ne parleremo. Però ha dato, in un cartello abbiamo la definizione, dice attenti perché si rischia, perché il disegno e riforma costituzionale proposto dal governo presenta vari aspetti allarmanti, non posso e non voglio tacere, c'è un drastico declassamento del Presidente della Repubblica, poi, a voce, ve lo faccio sentire, ha detto così. Non tutto può essere sacrificato in nome dello slogan «Scegliete voi il capo del governo». Anche le tribù della preistoria avevano un capo. È forte, no? Ora le chiedo un commento, ma prima le faccio ascoltare un boomerang che colpisce oggi Giorgia Meloni, perché lei è sempre stata a favore dell'elezione diretta del capo, fosse il Presidente della Repubblica, fosse il Primo Ministro, e l'aveva presentata poco tempo fa così, con questo testimonial. «Fratelli d'Italia su tutto il territorio nazionale, da oggi inizia la sua raccolta di firme per chiedere lezione diretta del capo dello Stato. Del resto noi, dove le cose funzionano, già eleggiamo i nostri Presidenti, i sindaci, i Presidenti di Regione, i Presidenti di Municipio nelle grandi città. Qui ne abbiamo un esempio, Giovanni Totti oggi testimonial della nostra campagna, Governatore della Liguria, insomma funziona il modello dell'elezione del Presidente». «Si può scoprire che hai dato tutto alla persona sbagliata?» «Floris, sono brutti incidenti, certo, io lo metterei da parte, quello che conta è il fatto, c'è un altro che Meloni, la Presidente del Consiglio all'inizio ha detto più volte «non è vero che questo progetto limita, altera i poteri del Presidente della Repubblica, se lo ricordo, che è una cosa palesemente falsa, altro che essere limita, è proprio gli amputa delle competenze». «Sì, non può più scegliere a chi dare l'incarico del Presidente del Consiglio». «Quello è un incidente di percorso». «In qualche misura può però testimoniare il fatto che quando non presenti un piano politico, non presenti un progetto politico, ma presenti una persona, se sbagli persona poi sono problemi». «Lei sa che ha detto «Votate Giorgia», che impressione le ha fatto scrivere il nome Giorgia invece di Giorgia Meloni? Non penso che serva a guadagnare nuovi voti, perché non è che uno cambia idea perché può scrivere un nome di battesimo invece del cognome. Cosa fa?» «Si è cucita addosso una divisa, un modello che è quello che la fa stare più comoda. Lei ha diritto di farlo. Io sono una figlia del popolo, vengo dalla Garbatella, parlo un italiano con forti inflessioni popolaresche. Sì, e non sono la dottoressa Meloni, sono Giorgia. C'è una coerenza in questo, viene incontro a quella spinta popolare che l'ha mandata dove si trova. Scusi, se mi permetto di un giudizio che forse lei non condivide. Fa bene». «Perché fa bene?» «Fa bene perché viene incontro a quello che è il suo elettorato naturale». «Perché è diretta, si identifica. Non c'è più un ragionamento strano a fare, c'è una persona che piace». «Non c'è più Berlinguer o De Gasperi o Nenni o Lamalfa, quelli che dicevano «Sono qui per dirvi una cosa che vi può essere utile, per dirvi che cosa dovremmo fare». «No, sono qui perché sono una come voi». «Empatizzate con me, io magari non vi dico come li risolvo i problemi, ma ho gli stessi problemi vostri». «Io le faccio un altro l'improvero alla Presidente del Consiglio, che dopo parecchio tempo, poco meno di due anni, che siede a Palazzo Chigi, continua a parlare e a intervenire come se fosse il capo dell'opposizione». «Questo lo trovo…» «Perché lei si definisce capo di un'opposizione culturale, politica, cioè lei arriva dopo che la sinistra ha governato per anni, per anni, per anni. In questa ridefinizione del proprio personaggio usa duramente anche se stessa, la propria famiglia». «Guardi, vediamo il cartello 28. Giorgia Meloni, anche in quello è stata molto empatica, ha detto «Io faccio politica». Si è parlato delle volte senza pietà delle mie questioni personali, però alla fine le metto in testa e si combatte. Si è visto di tutto, le continue campagne, finto scandalistica, fango gratuito per il sogno sui miei familiari. La mia storia personale è stata passata in radiografia praticamente dal giorno in cui sono nata, cioè schermiamo la mia vita personale. Poi però, se vai a rivedere, cosa è andato in onda? «Il diario a beneficio dei meme è stato anche intanto ornato da Ginevra con degli sticker». «Se lei mi chiedesse cosa scegliere tra la presidenza del Consiglio dei Ministri e mia figlia Ginevra, io non avrei dubbi, come qualsiasi altra madre». «Il primo ministro Kishida mi ha regalato per mia figlia un vocabolario giapponese-italiano di Hello Kitty». «Mia figlia, ma piccola piccola, un anno e mezzo avrà avuto, ce l'avevo in braccio, giornata tremenda». «Mi guarda con una faccia quasi compassionevole e mi fa una carezza». «Perché magari c'è una connessione». «Ma come se lei avesse capito, mamma, non ti preoccupare». «Vabbè». «Eppure questo funziona però». «È la stessa cosa, appartiene alla stessa tattica per la quale chiamatemi Giorgio, per la quale sono Giorgio, è la stessa cosa, sono una madre, ho una bambina piccola, per carità». «C'è un lavoro anche più profondo invece sulle radici politiche. La settimana scorsa all'omaggio a Berlinguer, qui si è accompagnato la russa che ha detto che l'unico che parlava era del livello del capo della destra, Almirante. Chi era Almirante?» «Almirante se ne è parlato per decenni. C'erano dei manifesti, me ne ricordo, tanti anni fa, quando lui era un energico leader politico che lo definivano fucilatore di partigiani. Il che non è vero, non ha mai fucilato personalmente nessuno. Ha partecipato all'organizzazione di quelle cose, di quella repubblica e soprattutto ha partecipato, ha collaborato alla redazione di quella rivista infame che si chiama «La difesa della razza» di Telesio Interlandi, dove da cui sono nate le leggi peggiori, a parte la dichiarazione di guerra che il fascismo abbia fatto. Questo è sicuro. Quindi mettere Almirante a paragone con Berlinguer nella gara delle nostalgie è improprio». «Senta, l'M6 allora, cosa è stato e cosa ha rappresentato nel dopoguerra, negli anni 60, negli anni 70? Perché ora si ha un'immagine delle persone che hanno fatto politica nel movimento sociale come dei puri che hanno infranto le regole del politicamente corretto, che dicevano quello che volevano, ma venivano censurati?» «Io ho un'immagine precisa, cronistica, dunque inconfutabile, di quella che è stata la politica negli anni di cui lei accenna. Sono stati gli anni della rivalità accesa tra gruppi giovani di destra e di sinistra, di estrema destra e di estrema sinistra. E c'è stata una differenza a proposito dei personaggi che lei richiama. La sinistra, il Partito Comunista segnatamente, ha sempre isolato, disconosciuto, messo da parte quelli che si coprivano di azioni vergognose, violente, bombe, atti di terrorismo, sospetti di terrorismo, tanto che ci sono stati sindacalisti comunisti uccisi dalle Brigade Rosse. Il movimento sociale non ha mai fatto un'operazione netta, non si è mai nettamente distaccato da quelle che erano le frange violente, estremiste, bombarole, picchiatori. Questa differenza, che cosa segna e da dove nasce questa differenza? Secondo me dalla guida, lo scudo della Costituzione. Chi ce l'aveva sopra la testa e chi non ce l'aveva. Chi la sentiva dentro e chi non. Ultimo passaggio. L'MSI non poteva parlare, in RAI non potevamo parlare, abbiamo passato molto tempo senza poter dire la nostra. Il concetto di censura, il concetto di impedimento, la libertà che era solo della sinistra. Adesso in qualche misura torna questo dibattito con la ministra Roccella, perché lei viene contestata in un intervento pubblico, non riesce a parlare e va via. Subito la Presidente del Consiglio e la stessa ministra dicono che questa è la vera censura. Che differenza c'è tra una contestazione e una censura? In poche parole la censura cala dall'alto, la contestazione viene dal basso. Fine del discorso. Ma lì c'è, se lei mi permette un minuto, c'è da dire una cosa. Quella dozzina di giovani con i cartelli hanno protestato, hanno contestato e poi hanno sbagliato. Perché poi dovevano, dopo aver manifestato il loro dissenso, dovevano permettere alla ministra Roccella di parlare. Invece non l'hanno fatto. E la ministra Roccella è stata abbastanza abile da prendere al balzo quella parola negata per coprirsi del mantello del martirio e uscire dalla sala come io sto facendo adesso. Ma non prima di aver salutato Lucia Annunziata. Grazie Corrado Augas, benvenuta Lucia Annunziata. Buon calupo.